Signor Presidente, la ringraziamo, credo di interpretare anche il sentimento di tutti i nostri ragazzi, delle emozioni che abbiamo nell'essere qui insieme a lei, riportiamo il saluto di tutto lo scautismo italiano per tutta la sua attenzione nei confronti dei giovani che ha dimostrato nella sua presidenza. Un saluto anche da parte della Presidente della GESCI e del Presidente del CNJ, le due associazioni che fanno parte della Federazione Italiana dello Scautismo. In Italia siamo 200.000 ragazzi e ragazze che giocano il gioco della vita, che vogliono contribuire a rendere il mondo un po' migliore di come l'hanno trovato e questa è una sfida bellissima per noi. Qui abbiamo 20 ragazzi che partiranno insieme a altri 1.200, il contingente italiano per l'America, dove ci sarà l'incontro con altri ragazzi di tutto il mondo in un incontro mondiale, il Gembori, che è questa occasione ogni quattro anni di ritrovarsi fra popoli diversi, fra storie diverse per eliminare i pregiudizi che ci sono nello stare insieme. E' bello portarli anche oltre questa esperienza della partenza, di questa avventura che parte anche il fatto che questo Gembori, questa occasione, come sempre riesce in questi cento anni di storia dello scautismo a prendere quello che è l'aspetto che la storia lì gli destina come evento, perché è stato inventato questa occasione, ma ogni volta riesce a prendere caratteristiche diverse della storia. Questa volta nel 2007 fu scelto all'America come posto per svolgere questo incontro, perché negli Stati Uniti erano state fatte delle organizzazioni per questa iniziativa, ma insieme anche ai paesi del Messico e del Canada. Per la prima volta un evento come questo non era organizzato soltanto da un paese, ma da tre paesi. Pensare che oggi andiamo in America in questa situazione con dei ragazzi a costruire cittadini del mondo a noi ci fa piacere e vediamo come questo evento riesce a interpretare quello che è il momento di oggi. Le vogliamo anche ricordare proprio come questa esperienza racconteranno meglio i nostri ragazzi sia un'esperienza che vuole in fondo far questo. La Federazione Italiana insieme alle sue associazioni vorrebbe provare a contribuire anche in Italia, nel nostro paese, a costruire cittadini, buoni cittadini responsabili per l'Italia, ma anche per l'Europa. Allora grazie davvero di questo suo invito, di questa possibilità di stare qui insieme a lei oggi. Grazie. Buongiorno, sono Mattia Gatti e sono uno scout da sette anni. Questi sette anni li ho passati nella sezione di Cernobbio, una sezione CNJ, Corpo Nazionale Giovani Esploratori Esploratrici Italiani, e sono stati sette anni meravigliosi in cui ho imparato a pensare con la mia testa, a seguire dei principi che vanno al bene del prossimo e al rispetto della natura. Questi valori sono molto importanti per me e li uso anche al di fuori degli scout. Ho iniziato a fare scout grazie a un amico che era già nella sezione di Cernobbio a nove anni e ho continuato grazie al mio amore per la natura, alle attività che facevamo e anche alle amicizie che mi sono costruite all'interno degli scout. Tra pochi giorni, come ho già detto in sera il Gembory, ci saranno noi ragazzi italiani che saremo ambasciatori del nostro paese e per noi è una grande responsabilità e un grande onore, visto che rappresenteremo appunto il nostro paese e trasmetteremo la nostra cultura e conosceremo molte usanze e realtà diverse dalla nostra. Come ambasciatori dovremo metterci in gioco al massimo per delle nostre capacità, eliminare il pregiudizio ed essere aperti nei confronti degli altri per vivere al pieno la nostra esperienza e riportarla al meglio. Durante il Gembory ci saranno continui scambi tra idee e pensieri e bisognerà costruire dei ponti tra le varie culture per poter imparare più cose da riportare a casa. Il simbolo del contingente italiano, che è questo qua, da una prima occhiata può sembrare una staccionata o un muro, però se si guarda più attentamente ci si accorge che è il ponte di Leonardo da Vinci visto dall'alto. Il ponte infatti è un simbolo di due mondi completamente diversi l'uno dall'altro, che sono distanti, che per mano dell'uomo sono stati uniti in un modo che in altri menti sarebbe stato impossibile. Il ponte di Leonardo inoltre, essendo un ponte autoreggente, non ha bisogno di nelegature né di chiodi e perciò è un perfetto esempio del detto che è più facile costruire ponti che sollevare muri. Come ha detto Mattia, il mio collega, praticamente noi siamo desiderosi, volenterosi, abbiamo il dovere di creare punti per poi sbloccare un nuovo mondo. Infatti Alloca New World sblocca un nuovo mondo è il motto di questo Gembory mondiale che si svolge ogni quattro anni e noi abbiamo avuto, diciamo, durante tutto il nostro anno di preparazione, abbiamo avuto modo di esplorare questo tema anche attraverso i tre obiettivi chiave del Gembory, che sono bellezza, accoglienza e ambiente. Bellezza intesa prima di tutto come sbloccare noi stessi agli altri, quindi conoscere le altre persone ma portare anche il nostro essere scout davanti agli altri, permettendoci di confrontarci e riportando anche le nostre origini e la nostra cultura, soprattutto quando saremo là in America dove ci confronteremo con centinaia di altri paesi, culture, usanze diverse. Bellezza anche il fatto di saper cogliere la bellezza nelle piccole cose, ad esempio una stretta di mano, un abbraccio, un simbolo, come può essere quello della promessa sotto la quale siamo tutti riuniti, che tutti abbiamo recitato, la promessa e la legge scout che tutti quanti ameriamo e rispettiamo. E quindi noi siamo uniti sotto questa promessa, oltre appunto a tutte le nostre diversità che non costituiscono uno svantaggio ma bensì un vantaggio, vantaggio nostro e del mondo che verremo appunto a creare perché con le diversità riusciamo a creare un mondo diversificato, un mondo migliore e con tanti punti di vista differenti soprattutto. Il secondo obiettivo è l'accoglienza, l'accoglienza prima di tutto di riconoscere le altre persone come individui, riuscire anche noi stessi a rispecchiarci negli altri, a condividere per esempio appunto una stessa fede, una stessa promessa, gli stessi valori ma soprattutto accoglienza nel senso di riuscire a riportare le emozioni che noi vivremo al gem a tutte le persone che ci seguono da casa, tutti i nostri compagni di reparto, i familiari, gli amici che non vedono l'ora di sentire i nostri racconti e anche l'ora di riuscire a sbloccare questo nuovo mondo che noi a breve diciamo andremo a sbloccare. Inoltre noi ci ritroveremo in una riserva naturale enorme, gigantesca e oltre appunto alla bellezza della natura, a sapere ammirare la natura, osservarla, dobbiamo anche impegnarci a preservare quella natura e a lottare per rendere il mondo un posto migliore di come lo abbiamo trovato. Frase celebre del nostro fondatore degli scout Baden Powell. Io sono Azzurra Perugini del reparto marchigiano Ponte di Fermignano a Gesci, sono emozionatissima, mancano sette giorni alla partenza quindi non vedo l'ora, non so ancora cosa mi aspetterà però sono pronta ad accogliere tutto quello che mi verrà proposto e signor Presidente la ringraziamo per averci accolto in primis, lei è il primo ad accoglierci e poi quando andremo in America verremo accolti da tutti gli altri paesi. Il jambory, volevo dire che il jambory letteralmente significa marmellate di ragazzi. Marmellate di ragazzi, il nostro fondatore aveva sognato questo evento appunto come un incontro tra tutti i ragazzi di varie età, riuniti però sotto la stessa promessa, con culture e usanze differenti ma che proprio nell'unicità e nell'insieme riusciranno appunto a fare amicizia e una volta cresciuti, una volta adulti non si faranno la guerra ma bensì riusciranno a costruire punti e a rendere il mondo un posto migliore di come l'ho trovato creando un mondo nuovo. Grazie. Grazie Presidente, vi ringrazio molto. È un piacere darvi il benvenuto al Quirinale e augurarvi un magnifico jambory. Saluto tutti quanti, i rappresentanti delle due organizzazioni, delle due associazioni. Lo scautismo è un'esperienza straordinariamente coinvolgente che voi vivete in maniera appassionata. Il jambory ha la stessa cadenza delle Olimpiadi e come quelle un'occasione di incontro tra tutte le persone di buona volontà del mondo, tra giovani in questo caso, che si incontrano mettendo insieme a confronto le loro esperienze, la loro comune visione di valori, di convivenza e di impegno nell'ambito delle relazioni umane e della natura. La frase Baden-Powell rendere il mondo migliore come si è trovato è una sfida affascinante, è una sfida vecchia, antica come l'umanità, come il genere umano. Non sempre riesce, però progressi ne sono stati fatti tanti. Basta guardare al mondo come era ancora cento anni fa, o nei secoli passati, si è fatta una grande strada. Ogni tanto siamo responsabili di passi indietro, di battute d'arresto. Però lo sforzo che i giovani fanno per un mondo sempre migliore è caratterizzato sempre da risultati. La prima delle tre obiettivi del Gemuri, l'accoglienza e la bellezza è quella che sottolinea la bellezza del mondo e della condizione umana. La bellezza del mondo a Cernobbio si vede bene, naturalmente, in quella splendida condizione. Ma quella che di più vi appartiene è la volontà di sottolineare la bellezza della condizione umana, delle relazioni. Quella di far comprendere che insieme si vive meglio, non soltanto in una comunità ridotta, come in un comune, in una regione, nel nostro Paese, ma in tutto il mondo. E che insieme significa avere un rispetto reciproco, che passa per la conoscenza reciproca. E quello di scambiare esperienze, di conoscere ragazzi che vengono da parte del mondo, per voi sarà un'esperienza affascinante, ma sarà testimonianza di questo valore, la conoscenza, per il rispetto, la collaborazione, lo sviluppo insieme. Sarà anche una lezione per gli adulti da parte vostra, un messaggio nei loro confronti. Perché uniformi i loro comportamenti ha questo stesso criterio. Per questo vi faccio molti auguri. È un'esperienza che farete di grande fascino, di grande coinvolgimento, ma è un messaggio che lanciate anche all'intera comunità umana. Quella di rendersi conto che vivere insieme, serenamente, fa vivere meglio tutti quanti. Fa apprezzare la natura, nel momento in cui i mutamenti climatici mettono a rischio molte cose nel mondo. Fa vivere meglio nelle relazioni umane, in cui le contrapposizioni creano non soltanto grettezza di mentalità, ma anche danni sotto ogni profilo, da quelli personali, spirituali a quelli economici. E quindi questo esempio che voi date è un bel messaggio. Buon gemburi, auguri e buon futuro. Grazie. 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 Grazie.